La capsule per Berska è sold out ovunque Fedez festeggia, la capsule per Berska è sold out ovunque che ha registrato il sold out ovunque, come dice lui stesso sul suo profilo di Instagram Fedez, la capsule per Berska è sold out ovunque I sold out, lo sappiamo bene, Fedez ci ha abituato piuttosto bene, per il tour comunistico il Rolex, che lo ha portato in giro per l'Italia insieme al suo collega e amico in lunga axe, ha fatto il tutto esaurito in ogni singola tappa Più felici di così, il fidanzato di Chiara Ferragni, non poteva essere. O forse sì? Ecco che arriva un nuovo sold out per lui, ma questa volta non si tratta di Ticket andati in fumo in pochi secondi No, stiamo parlando della sua collezione di moda non la prima, come ricorda lui stesso in alcune interviste che ha segnato il suo successo anche come fashion designer La sua capsule per Berska è andata a rubà fin da subito, mentre Fedez e Chiara stavano festeggiando il lunch di Misundersto O da Milano, a una festa privata, arriva una notifica al rapper Più in del momento, in un'ora, tutti i capi da lui ideati sono andati esauriti sul sito Fedez ha ringraziato subito i fan, ricordando che, dal giorno dopo, tutta la collezione sarebbe stata nuovamente disponibile sia in rete che in tutti i flagship store della Maison Low Cost Detto fatto, tutti i suoi fan hanno preso d'assalto gli shop aggiudicandosi felpe con il cappuccio, ghimpanzi e accessori ricamati con i tatuaggi che contraddistinguono il rapper L'artista a cui va il merito? È il manga, un tatuatore argentino a cui Fedez ha affidato letteralmente le mani e le braccia per farsi incidere e ricamare dalla sua arte La capsule arriva fino a Oriente, a Tokyo, e a Nord, a Londra, gigantografie del quasi 28enne invadono tutte le grandi città. Dove c'è uno store bersca, in effetti, c'è anche lui Infine, Fedez dà appuntamento ai suoi fan per il weekend, al negozio di Corso Vittorio Emanuele 22, a Milano, e lì, una folla incredibile lo accoglie e lo acclama Fedez festeggia sui social con il segno della vittoria La collezione Cancelletto Fedez for Bersca è sold out ovunque e questa è stata l'accoglienza che ho ricevuto da voi. Grazie del costante supporto, questo il sintetico messaggio di Fedez su social, ma dietro queste parole c'è tanta emozione e felicità Il rapper milanese ha imparato molto bene dalla sua fidanzata, che è totalmente estasiata per il grande successo dell'edizione limitata del futuro marito E le prossime novità? Chissà a cosa si stia riferendo Fedez, visto che, nei giorni scorsi, ha condiviso con i fan un momento molto particolare Vestito con abiti grunge e affiancato da una super chic ed elegante Chiara Ferragni, rapper e blogger si sono recati a un misterioso colloquio di lavoro di cui, ancora, non sappiamo né l'esito nell'obiettivo Che si riferisca a questo, il giudice di X Factor, quando accenna news in arrivo Che si riferisca a questo, il giudice di X Factor, quando accenna news in arrivo